Il paniere di Merlini Nel cuore dell'oltrepop avese la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria E ancora affettati freschi, frutta e verdura A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951 Buonasera a tutti gli amici di Occhio Pavese Siamo con Fabio Aquilini, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto Questa sera vogliamo parlare con lei dell'arrivo di McDonald's presso il Parco Baratta di Vogherec Cosa ne pensa di questa novità? Buongiorno, mi faccio portavoce di alcuni commercianti Ma soprattutto mi faccio portavoce di quanto Fabio Aquilini è commerciante Il mio lavoro è un lavoro che si svolge nel fornire negozianti che sono anche della ristorazione E questi negozianti che possono essere bar, possono essere pizzerie Quando hanno saputo dell'eventualità di questo insediamento mi hanno comunicato la loro preoccupazione Una preoccupazione che parte da che cosa? Dalla limitazione del fatturato Mi dicono, noi nelle ore del primo pomeriggio, quando le scuole a due turni solitamente I ragazzi vengono fuori da scuola, il bar e le pizzerie vengono assalite E soprattutto dei ragazzi che sono fuori di Voghera e attendono il pullman per andare nei vari paesi E loro dicono, nel momento in cui noi avremo una concorrenza Ovviamente il nostro fatturato va a diminuire Ma non solo il fatturato dei bar e delle pizzerie ma anche dell'indotto Quindi quanto io, non porterò meno fatturato alle singole attività commerciali Singole attività commerciali appunto che potrebbero risentire a livello di fatturato come ha detto lei Il fatto che venga costruito un McDonald's in quella zona, quindi in Parco Baratta Decentrata rispetto a quello che è il centro storico Secondo lei può essere un bene oppure si poteva fare agire diversamente? Nel momento in cui la catena McDonald's deve venire Perché non so per quale normativa di legge poteva superare i limiti del comune Io dico che bisogna trovare un compromesso Quindi secondo me un McDonald's in una situazione diversa da quella Quindi non ubicata la solitaria Poteva dare anche una possibilità che il ragazzino oggi andava dentro del McDonald's Domani magari andava nella pizzeria o andava nel bar McDonald's è solo l'ultima delle grandi catene internazionali Che scelgono di investire sul nostro territorio E il Parco Baratta sembra destinato a diventare una sorta di succursale del centro commerciale Montebello Cosa ne pensa? Ma guarda io qui devo un attimino riprendere Quindi non parlo come Fabio Quilini commerciante Ma parlo come responsabile dell'Italia del rispetto Non voglio sembrare magari come a volte mi si dice su online Che sono un po' troppo monotono nelle mie affermazioni Io credo che bisogna incominciare ad avere il rispetto della vita Cioè la vita è fatta di gradualità e è fatta di lentezza Credo che abbiamo iniziato negli anni 60 con questo tipo di mentalità commerciale Oggi noi per acquistare un pacchetto di biscotti Quando entriamo in un supermercato abbiamo 70 metri lineari di biscotti Credo che questa cosa bisogna fermarla un attimino Quindi sono per il pensiero di ritornare lentamente lentamente a una dimensione un po' più moderata Abbandonando quindi insomma il consumismo? Non dico abbandonandolo ma un pochettino ridimensionandolo Secondo me dobbiamo fare tutti un po' un passo indietro E renderci conto che nel momento in cui continuiamo a esasperare Quindi esasperiamo la terra con questi insediamenti di edificabilità in tutti i generi E continuiamo a esasperare che qualche giorno la natura si ribellere veramente Ma non solo, anche noi stessi ci ribelliamo È troppo una società che sta spingendo l'eccesso Io sono per il rispetto della calma e del non eccesso Grazie A voi, grazie